Beat, dopo tante difficoltà, è riuscito a superare il nuovo potere del Saiyan, il Super Saiyan Black, potenziandosi al massimo. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapuleranno? Beh, lo vedremo insieme. Veget, il Super Saiyan Black Rose. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapule. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapule. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapule. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapule. Riuscirà Beat a sconvincere i nemici che lo scapude. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.